Noemi Signorile al termine di Scandicci-Cuneo, una gara che forse avete approcciato in maniera un po' troppo tenera per un avversario importante come Scandicci? Non sono d'accordo, Scandicci è forte, quindi lo sapevamo, sono loro che sono entrate a mille e ci hanno messo in difficoltà, sono uno squadrone. Non pensavamo forse che giocassero così perché hanno tantissimi impegni, giocano ogni tre giorni, quindi non ci aspettavamo un ingresso così, però sicuramente potevamo fare qualcosa di più, però loro ci hanno veramente messo in difficoltà, quindi abbiamo fatto fatica. Grazie, complimenti. Grazie.